Buongiorno signori, buongiorno a tutti e bentornati anche oggi in un nuovo video. Finalmente rieccoci qui a parlare di argomenti succulenti. Quando acquisto criptovalute o addirittura le mino, cos'è la migliore cosa da fare? Le butto via? No! Le tengo ferme per anni e anni? Assolutamente no! A parer mio, se il nostro obiettivo è quello di mantenere queste criptovalute sperando che nel tempo acquisiscano un valore elevatissimo la cosa migliore da fare è generare interessi passivi dal loro stacking. Quindi le teniamo ferme per un periodo che andiamo a definire e grazie a quello guadagniamo degli interessi. Secondo me cosa migliore non c'è. Prima di incominciare con il video e con il tutorial, al passo passo che vi permetterà anche a voi di fare questo stacking e guadagnare degli interessi, vi ricordo di lasciare un mi piace che è fondamentale, iscriversi al canale e attivare la campanella delle notifiche e in descrizione trovate tutti i link utili, tra cui Crypto.com che vi occorrerà nel tutorial di oggi se volete appunto iniziare il vostro stacking. Se utilizzate il mio codice amico, il mio link amico, andrete a guadagnare anche un bonus benvenuto se andate a depositare 350 euro in CRO. Però vabbè, leggete tutto andando a cliccare il link nella descrizione. Grazie a tutti coloro che si sono già uniti attraverso quel link. Quindi, come già vi introducevo, Crypto.com ci dà la possibilità di fare questo stacking, quindi di prendere una criptovaluta a nostra scelta. Ci sono dei minimi da rispettare, giustamente se no è inutile fare lo stacking per un satoshi, per dire. E appunto inseriamo queste criptovalute in questo sistema chiamato Crypto Earn e decidiamo un termine di questo stacking. E, a seconda del termine, ci darà un guadagno in percentuale stimato annuo. Quindi la stima che ci dà non è sul mese, sui sei mesi che facciamo, ma è dilazionata nell'anno, diciamo così. E secondo me comunque è molto importante fare stacking, perché se il nostro obiettivo è davvero quello di tenerle ferme, a questo punto è meglio che ci generino degli interessi, che poi siano bassi, alti o meno. Non ci interessa, l'importante è generare altre criptovalute, perché la cosa più importante è che ad esempio Crypto.com non ci paga gli interessi in euro, interessi in chissà cosa, ci paga gli interessi direttamente nella criptovaluta su cui abbiamo fatto stacking. Se noi mettiamo 100 euro di bitcoin, avremo bitcoin come ritorno. Se noi mettiamo Ethereum, avremo Ethereum come ritorno. Direi di spostarci sul telefono e vedere effettivamente come si fa questo stacking. Ed eccoci qua sull'applicazione di Crypto.com. Da qui bisogna semplicemente andare sul logo centrale, cliccando, fare earn. E qua siamo già nella funzione di stacking. Come potete vedere ho già due tipologie diverse, una con un mese di termine e l'altra con un asset flessibile. Dopodiché vi faccio vedere che ne ho già fatti tre di test, uno di un mese, tutti da un mese, perché sinceramente poi io spostavo di qua di là le mie cripto per valutare conti, servizi, eccetera. Quindi mi servivano un pochino flessibili. Comunque, io direi, prima di tutto vi faccio vedere una cosa. Questo qua è il mio asset flessibile e come si può vedere, ogni tot mi aggiorna con quanto effettivamente ho guadagnato. Naturalmente con una cifra così bassa e soprattutto con un asset flessibile è normale che i guadagni non siano elevati, però sempre meglio che tenerle ferme in questo caso. Ora, quello che dobbiamo fare, vi faccio vedere come creare questo asset in stacking. bisogna fare il più che c'è in alto, a destra, e selezionare la criptovaluta. Naturalmente quella che dà un ritorno più elevato è il CRO, il Crypto.com Coin. Come possiamo vedere, dà il 2% sul flessibile, il 4% sul termine di un mese e il 6% su quello da tre mesi. Io direi che vi mostro il Bitcoin dato che non è un po' disponibile e facciamo ad esempio il termine da un mese. Eccolo qua. Facciamo continua. Qua ci dice naturalmente che non potremo muovere i nostri soldi per un mese. Continua e qua decidiamo la quantità. Io in questo caso potrei fare un discorso del genere, metto tutto quello che ho su questo account e faccio deposita. Qua ci dice tutto di nuovo. Come si può vedere, un mese di termine, 3% e tutto quello che ho lì. Adesso con il Face ID mi ha dato il consenso e poi abbiamo messo in staking, ci arriverà un'email e abbiamo messo in staking la nostra criptovaluta. Da qui in poi inizieremo a guadagnare degli interessi. La percentuale che vedete, naturalmente ricordo essere una percentuale annua e soprattutto è una stima. Non è la certezza. Però, ripeto ancora una volta, che è sempre meglio guadagnare degli interessi da delle criptovalute che sono ferme piuttosto che non fare nulla. È sempre un guadagno aggiuntivo. Quindi, come avete potuto vedere, è molto semplice. Qua c'è scritto guadagno in totale dall'inizio. Siamo sui 5 euro, però giustamente non è in euro. Lui ti fa una stima in euro perché giustamente l'account è in euro. Come avete potuto vedere, fare staking di criptovalute è davvero semplice. Poi vi mostrerò nei prossimi video anche altri sistemi su altri servizi. Io in questo caso ve l'ho mostrato su Crypto.com perché già l'ho fatto diverse volte. Lo reputo molto, molto conveniente più che altro perché è semplice. E io, quello che continuo a ripetervi, è piuttosto che tenerle ferme, fate qualcosa. Io continuo a dirlo a tutti, ai miei amici, ai miei parenti, a chiunque abbia mezza criptovalute. Dico, non tenerla ferma e non venderla subito appena ce l'hai perché è totalmente inutile. Questi naturalmente sono i miei pareri. Io spero di avervi fatto imparare una cosa facendovi vedere lo stacking passo passo. Poi ripeto, è davvero una funzione semplicissima grazie a Crypto.com. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate il link Invita un Amico che almeno avete anche un bonus iscrizione. Comunque, dato che siamo giunti quasi alla fine del video, volevo prendermi gli ultimi secondi, ultimi minuti per ricordarvi che ho aperto un progetto che è ancora in fase un pochino embrionale chiamato Mining.it e permette di fare un cloud mining, cioè si acquistano dei contratti, delle robe. Io vi lascio di seguito il video promo creato per Miniamo.it fatto sta che, ripeto, è in fase embrionale, attualmente non è ancora società e ancora sulla mia azienda individuale. Sto capendo come muovermi in base anche ai vari investitori che arrivano o no, cercherò di fare il meglio. È un progetto che secondo me può crescere, interessante, scrivetemi nei commenti oltre quello che pensate sullo stacking, magari cosa ne pensate di questo progetto di Miniamo.it. Comunque, anche il link di Miniamo.it è in descrizione, fateci un salto e magari se avete qualche consiglio io lo accetto volentieri. Grazie a tutti della visione, ci vediamo in un prossimo video. Vorresti fare mining di criptovalute ma non sai da dove incominciare? Miniamo.it è la soluzione. Acquista contratti triennali di locazione di potenza e incomincia a minare in cloud. Tu investi e noi facciamo il resto. Miniamo.it Una realtà italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.